La solidarietà e fortuna Il carnevale si è sposata benissimo, che queste 20 quasi associazioni, tutti insieme, aiuteremo anche quest'anno la mensa di San Paterniano. E il primo premio della lotteria, che costa sempre 2,50 euro, che cosa sarà? Sarà una bellissima Opel Carle, che gentilmente adesso faremo vedere subito, immediatamente. E' una lotteria, quella legata al carnevale, che ha anche un significato intrinseco di altissimo valore. Ci si diverte di più sicuramente, se abbiamo tutti a mente questo sforzo che la carnevalesca e le associazioni fanno, per far sentire coinvolti in un momento di allegria anche quelli che hanno più bisogno. Quindi il carnevale, in un momento della stagione dell'anno che segue il Natale, ancora di più quest'anno è vicino a quelli che hanno qualche difficoltà. E mi pare interessante che da anni si faccia questa lotteria, mettendo in palio bellissimi premi, tra cui quest'automobile straordinaria, perché siamo tutti più a cuor leggero, a divertirci, nella consapevolezza di fare qualcosa di utile anche per gli altri.